Tagli di fondi, tagli alla formazione, mancato riconoscimento economico adeguato al personale. A questo si aggiunge la scure sui centri di spesa, la soppressione dell'autonomia gestionale di 100 comandi provinciali, le mani legate nella manutenzione e nella riparazione dei mezzi di soccorso. I vigili del fuoco di Cremona hanno celebrato questa mattina la festa del Corpo Nazionale, voltando le spalle alla lettura del messaggio del ministro dell'interno Angelino Alfano. Un gesto sostenuto dai rappresentanti sindacali del CONAPO provinciale e regionale che si ripete in contemporanea in tutta Italia. Sì, è una protesta che viene spontanea quasi. In questo momento, in questo periodo, il Corpo Nazionale sta vivendo una fase delicata e le conseguenze si vedono nella manifestazione di oggi. Alla celebrazione di Santa Barbara, praticamente, c'erano i pensionati, c'erano tante persone, le autorità civili, religiose. I pompieri ce l'erano pochi. È un momento di sconforto per tutti i vigili del fuoco. I 30 euro sono l'ultima delle cose, diciamo. Questa forse è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Noi, purtroppo, abbiamo questo problema che qualsiasi iniziativa si prenda nei confronti di un corpo dello Stato, i vigili del fuoco sono sempre esclusi. Ultima, quella degli 80 euro che il governo ha promesso di dare alle forze dell'ordine, i vigili del fuoco non se ne parlava. Noi, tutte le volte, dobbiamo iniziare una battaglia, una guerra, sembra di farla contro i mulini a vento, a questo punto, bisogna dire così. Iniziamo una guerra per poterci vedere garantiti gli stessi diritti degli altri corpi dello Stato. La provincia di Cremona, ha spiegato il CONAPO, conta un rapporto vigili del fuoco abitanti pari a 1 su 3.200, contro la media italiana di 1 a 1.200 e la media europea di 1 a 1.100. Cifre che rendono l'idea a maggior ragione se rapportate alle dimensioni del nostro territorio, che si estende su una distanza di 120 chilometri da Spino Dadda a Casal Maggiore, e i numeri sono ancora più risicati. Dal 2010 non vengono rinnovati i contratti, e nonostante la recente sentenza di incostituzionalità del blocco dei contratti nella pubblica amministrazione obblighi a mettere mano ai rinnovi, non essendoci risorse, si parla di aumenti lordi non superiori ai 7-9 euro mensili, che bilancio di fine anno dunque si può fare? Questa è la domanda a cui Alfano deve oggi a maggior ragione rispondere.